Se edito o se vedo una struttura editata, il video finisce Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Lace Lake per tentare la sfida di oggi Che è se edito o se trovo una struttura editata dai nemici, il video finisce Ho voluto rendere la sfida un po' più difficile di quanto non fosse di già ragazzi Infatti credo che praticamente perderemo nel giro di 3 secondi Però proviamo ragazzi, sono veramente curioso di vedere ciò che può succedere Tentate una sfida così folle, cioè credo che veramente la perderemo nel giro di pochissimo Perché ormai chiunque edita ovviamente, quando faccio queste sfide io che trovo il P90 Lo spara a bende, tutto quello che volete ragazzi, lo trovo io Cioè quando devo fare una sfida che dura 3 secondi, venite dammi per le armi Perché tanto io trovo di tutto, io già vedo delle strutture lì ragazzi Non guardiamole, non vorrei già trovare subito delle strutture editate Ti prego non editarle, cavolo no ragazzi, non mi conviene proprio guardarli Allora, sta notizia qua, io volendo posso eliminarlo Se arrivo al momento giusto, dov'è? Hey bro, hey bro Ok, diciamo che il tizio non aveva ben compreso il tema del prendere un'arma per eliminare i nemici Vabbè, lasciamo stare, a parte questo Non vedo strutture editate ragazzi, mi devo solo avvicinare per cercare di eliminarli Nella speranza che nessuno dei due stia ancora editando Vediamo, vediamo, non dovremo avere troppi problemi in realtà in questa cosa Un nemico eliminato A posto, non modificare, esci come una persona normale Ma che c'hanno oggi i nemici tutti quanti stupidi? Non lo so ragazzi, cioè Impegnatevi, non lo so Allora, ok Vabbè, io però non ho problemi Non voglio guardare queste strutture, sono normali Ci interessa solo questo, quindi posso tranquillamente ignorarli e andarmene E vabbè, credo che i nemici questi fossero in questa zona Erano tre, li ho eliminati tutti Quindi non dovremmo avere troppi problemi C'è anche un lama, ovviamente Ovviamente, ragazzi Una partita del genere come non poteva andare benissimo? Cioè, era ovvio, no? Veramente ovvio Ok No No C- C'è anche un'altra partita del genere